Bella ragazzi, sono Pulsar, benvenuti in un nuovo video. Oggi un video un po' speciale perché siamo in collaborazione con un altro canale di YouTube, un canale di un ragazzo che si chiama XRMarcoXRSilver che noi chiameremo Marco, ma non vi preoccupate perché ci sarà il link al suo canale in descrizione, quindi lo potrete trovare anche se non vi faccio lo spelling. E niente che dire, è un ragazzo molto simpatico che ha un piccolo canale, ha iniziato da poco su YouTube, siccome mi stava particolarmente simpatico ho deciso di fare qualche partita con lui, qualche challenge insieme ed è uscito un bellissimo video che vedrete tra pochissimo e non dimenticatevi che ce ne sarà un altro che abbiamo fatto sempre insieme che troverete sul suo canale, quindi se volete andare a vederlo in descrizione troverete l'altro video. In particolare insieme andremo a fare la challenge solo AR e pompa e con AR intendo fucile d'assalto, quindi potremo usare solo quelle due armi e ovviamente anche tutto quello che non è armi, quindi cure eccetera e tenteremo di fare una vittoria reale utilizzando appunto solo queste due armi. Alla fine la cosa risulta molto divertente perché io quella sera non ero particolarmente in forma, facevo abbastanza schifo, quindi vedrete come Marco è riuscito lo stesso a mostrarci un po' di buon Fortnite e forse a farci vincere la challenge oppure arrivare molto vicino alla vittoria reale, ma lo scoprirete tra pochissimo ragazzi vi lascio al video, ciao bella! Va bene, dove atterriamo? Solo pompa e solo AR Falco? Vai! Si si iniziamo belli aggressivi, poi se vediamo che il piano è che se vediamo che la partita peggiora Senza scocchino, senza arco, insomma Bombe, anche niente, granate varie, no, niente, niente, ok Trappole? Neanche, solo, oddio Trapp... Che facciamo? Se vogliamo togliere anche quelle io farei senza trappole, io mi sa che vado in quella casa lì Io farei senza trappole, però tipo le altre trappole, quelle che non fanno danni, secondo me si potrebbero usare Sì, dai, in effetti Cioè magari non usiamo le trappole che fanno danni Ho già preso una granata Ottimo Sbagliato Io ho trovato le doppie pistole, altre doppie pistole Ancora niente Eh, si facciamo di poco però Eh già Attenzione Sono inutili Attenzione, ancora niente, niente Ma hai fatto caso se c'era gente? No, non so, sai che... Pompa? Aspetta, il tattico vale come pompa? Eh certo, sì Ok, ok Allora, AR ovviamente, la K vale come AR, giusto? Sì, sì, certo Ok, ok Quindi ci possiamo curare per un anno Ottimo, ottimo Io ho invece sei scudi Oh sì, li vedo Ci proviamo? Col pompa io vado Niente, sono bustatissimo Eh, purtroppo non ha AR Ah, sei senza tu Eh, sì Cioè, è possibile che in una città intera c'era una AR Eh, senza un po' Lì c'è una scelta Ah, qua, qua, qua Ci andiamo? Sì Hanno vinto appena adesso un fight Sì, sì, sto andando sulla collinetta Ok, ho tolto lo scudo a uno E all'altro Ha terrato, ha terrato Ottimo, ottimo, ottimo L'altro, comunque gli ho già tolto 70 di vita Ok Altri 74 E non danno più scudo No, ho sbagliato Dov'è? Alla qui da me Arrivo Qui sotto Qua sotto Sì È morto, è morto, è andato Bravo Grande che me... e stava tenendo... Ok E la R? Quale hai tu? Ah, già, c'ho quello bianco, vabbè Eh, vuoi... vuoi la cappa? Eh... Guarda, ti faccio cadere una cappa verde, guarda, è appena caduta Eh, bisogna stare... Eh, bisogna stare... Sì, 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 perché ci sono quelli sopra 25 bianco Ok, anche quello sopra è senza scudo Ok Eh, poi abbiamo la banda Usiamo jumpa, usiamo jumpa, lo uso io Sì Andiamo sopra Ok, buono C'è la safe Ok Eccolo, sta salendo anche lui Dietro te Ok, mi ha costruito in faccia Ah, hai scappato No, sono morto, sono un cretino Toia Eh, forse ti conviene provare a scappare con uno dei jumpa, sai Tanto io son morto, io son morto Uso un jump... Oh, niente Nooo, non mi ha sparato Ah, peccato Ma comunque la mia è basso, per forza Dov'è la mia? Aveva 32 di vita e gli avevo lasciato, porco cane Vabbè Vabbè Bene, va bene, un buon inizio, un buon inizio, dai Sì Eccolo, è fuori dalla casa, eh Ok Lo vedo Ah, no, no, no Nooooo Non ho capito come... Oddio Dai, ho tre colpi, diciamo Stai uscendo? Ok, ok, ok Oh, c'è... Oddio mio Aia, 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 aia Che dolore O che è? Ah... Mi ha massacrato No, dietro no Taglia, 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 taglia che brutta roba è proprio vulcano vulcano l'unica è figo perchè puoi luttare puoi andare dove ti pare però la sfiga è che se effettivamente non ti trovi non ti trovi niente di buono dopo sei anche senza materiali stiamo facendo lo stesso ingresso solo che io l'ho preso nel sedere ok un cecchino dorato giusto per iniziare bene no tutta roba inutile io invece ah io non posso li vado a prendere a picconate non so se vale la pena l'altro ha perso vita eh l'ho fatto io uno ah no perfetto li hai ammazzati eh si però c'è una ferra quello lì ah ui e io non posso sparargli ora posso sparargli vabbè spara così dov'è no non cascare non provare a cascare bravo occhio che ce n'è uno non è morto è morto è morto è morto è morto è andato era mi sa l'amico di quello allora questo lo buttiamo questo lo buttiamo questo lo buttiamo mannaggia eh ti hai non ho capito come sia possibile ma ho esattamente ah beh si perchè ho aperto tre ceste ho esattamente 30 30 30 di materiali ah ma anche qua c'era poca roba sai io uscirei comunque da sopra eh si si va qui si 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 sto arrivando voglio roba epica voi anzi si è una jump perchè non ho visto colpi infatti ottimo cavolo ho trovato a terra ho trovato oh vedo vengo lì anch'io perchè vedo un tattico si si viene rettata ha trovato un po' quello nuovo a terra uno scar dorato ho appena trovato mentre lo dicevi mamma mia c'è fortuna go go ok dobbiamo vincerla oh un pompa un pompa verde grande si è trovato qua il pompa del mondo blu ah blu ok io ho appena trovato il verde ero felice invece arrivo io ho pochi materiali e non volevo consumare oddio cosa ho perso uno di vita due tre ho perso tre di vita 4 ma ma do 5 di vita vabbè basta una mela ma un giorno non so che è successo anche a te ero endgame tipo eravamo in 6 e io dall'alasso in cima no? si ho sbagliato si si dall'alasso in cima mi butto fino in giù perchè so che non prendi danno la caduta no? sulla lava ah davvero? eh quel giorno però avevano non so perchè ma sei sicuro che non si prende? mi ricordo no ci avevo provato una volta l'ho preso ti faccio vedere guarda eh se muoio faccio sta a vedere eh questa questa non si taglia questa non lo tagli eh giuro che vado te mi vedi? si si ti vedo ah però devi partire dalla lava ah forse è stato vero è quello sai perchè io l'ho fatto un'altra volta che non sono partito dalla lava e è finita male allora un po' di ferro io prendo i palloncini così perchè tanto ho spazio ah no li posso usare? si 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 dai fanno sempre parte della famiglia delle cose che non fanno danni si esatto vabbè no cure no in realtà ok chi curano niente però stanno facendo una grossa skybase casca 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 si si che casca uh l'hai presa con una grande caduta 29 metri era da solo eh a quanto pare questo vuole scappare con la jump no invece no 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 oh c'è un erdro proprio laggiù c'è un un erdro erdro oh potremmo andare a prendere ma erdro andiamo a vedere il loot del tizio io mi mangio ci sono delle delle mele qua se vuoi gradire ok no io visto che ci passo davanti avviva ops sono stato io mi sono partiti due colpi vado verso l'air drop eh se vuoi c'è deltaplani mh ah qua c'era il deltaplani non l'ha aperto già è vero genio del male si vengo a prenderlo ok allora lancia razzi ecco jump che ci sta e e ah un pompa pompa ah ok lo vuoi tu ah no tu sei quello d'oro ah siamo bellissimi adesso allora ah ci stanno gliderando addosso è qua è qua è dietro mi sa no non lo vedo ah sono qua sopra 24 shield 30 scudo all'altro era il secondo questo qua vero eh si si li vedo li vedo stanno andando di nuovo verso ah stanno girando stanno ruotando li seguiamo dove stanno andando eh là si vabbè possiamo seguire ok vabbè ok ci sono vicini li vedo li vedo li vedo l'ho visto era lì adesso è andato sotto andiamo a prenderlo occhio l'amico si eh sai che ci conviene andare a prendere io ho tolto io ho 28 a quello sotto è ok 37 a quello sopra ok io mi sto curando ah non ho colpi di AR ne hai? eh si ho voglia vieni vieni occhio occhio ah scemo 36 a quello sopra 35 a quello sotto si eh scusa il mio colpo credo dopo eh si 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 ce ne ho ancora 9 tranquillo dov'è dov'è non lo vedo ok è qua questo è rischiato eh è qua è qua eh mi serve una mano perché non ho colpi di AR bravissimo mi stai carriendo di brutto veramente ah ho una kill ah sta arrivando a usiamo un jump eh si eh dove sei ah vai vai usalo 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 arrivo eccomi e fuori ah dove sei ah ok e prendiamo la il geyser qua andiamo a prendere e ah no mi serve mi servirebbe un un campfire come si chiama eh non ce l'ho eh dobbiamo spostarci oh c'è gente lì eh però ci dobbiamo un po' si 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 no no te lo dicevo te lo dicevo eh c'è gente anche là cazzo eh andiamo qua dai pirati ah sei lontano cacchio oddio no scusa no 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 va bene arrivo no no sono io che non stavo guardando no non ci ho fatto tranquillo tranquillo ci sono ci sono no no sto arrivando io sto arrivando io dove ah ok vabbè siamo vicini si si ok eccomi mi sa che c'è gente qua sopra sai e dentro no niente niente oh ok ti lascio a te eh si col pdr eh io ho voglia tieni tieni ottimo grazie prego guarda te lo lasciate anche poi c'è uno altro no 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 va bene va bene va bene va già bene ok io ho bisogno di cercare un coso in cui curarmi dove sono qua c'è una palla ah si si ho visto ah devo al guider dietro eh si a me infatti stavo pensando l'unico campfire che mi viene in mente è quello dai pirati ah la 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 c'è gente uno è appena morto si si 24 scudo a quello più in alto ok altri 24 c'è altra gente eh prendiamolo 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 eh andiamo verso i pirati vediamo vediamolo eh si 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 no c'è gente c'è gente c'è gente ci allarghiamo ci allarghiamo ci allarghiamo va bene si 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 mi piace c'è gente c'è gente all'ombrello ok ah oddio eh mi sono incastrato ok ci sono hanno l'arco ok dai io ho un jump pad ok non ho tanti materiali ah hanno preso il rift ce la facciamo eh io io non credo no guarda questo eh beh ci sta oh ne vedo uno qua ne vedo uno qua aspetta oh buono 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 ok vai lo metto vieni vieni vabbè attento a te non serve mica sono sono un deficiente no lasciamolo qua lasciamolo qua che ci serve ok cazzo niente oggi sto giocando così mi dispiace vabbè dai pace quanto anch'io ho uno di vita ok cinque io e una a te ok come hai fatto a perdere un scaldamento fa madonna direi per te lo è stato per me un po' meno vediamo dove va il cerchio mi rifaccio sul finale ok vabbè scudi grandi non ne hai ovviamente vabbè in realtà ci torna utile questo aspetta devo andare in bagno 10 secondi ok 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 oh andiamo andiamo 13 left ah dobbiamo partire quasi subito comunque ah cazzo dovevo farmare dei materiali anziché stare a guardare quanti ne hai eh ce l'ho io ok 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 prova ad atterrare safe così riusciamo a scambiarceli e sopra questa collinetta qui si va bene va bene facciamo il ground ok facciamo il camper cioè facciamo un 2x1 aspetta quanto parte sbaglio ok sbaglio eh sì un attimo li do tieni grazie li do qui eh socia perfetto grazie sento un rift gente laggiù sì stanno venendo qua stanno venendo qua 36 a questo qua davanti a noi 59 non ha scudo ottimo ottimo ecco l'amico sto andando io sto pushando occhio occhio che c'è una trappola dentro 160 martingarrix ok vuole 130 in realtà ok è che gli ho fatto 160 danni 168 però pochissima vita è una vita eh sì lui ti ha droppato trappole varie qua qua c'è roba ho da darti vende qua c'è scudone ok ottimo c'è la safe subito eh ah cacchio e tra ti basta no? sì 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 ho quello prendo quello che passa sta convento bella bella partita questa è buona sì 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 se ce n'era un'altra era meglio no va bene va bene sono perfetto cos'hai? jump pad? no ok ok andiamo andiamo io ho i palloncini ho 175 di vita che non è niente male ebbè se no era troppo facile no lanciarazzi no uno è morto è morto infatti poverino rip proprio in mezzo a questi piccoli lanciarazzi ebbè ovvio proviamo a salire eh qua così occhio sento gente sono qua vicino è sotto? non lo so oh scusa oh nulla sì sono sotto tutti sì l'ho sentito io c'ho i palloncini potrei fare una roba tristissima in cui vado per aria già invece ho quelli per volare ok oh occhio occhio ok stanno stanno costruendo sotto di noi dei ma si possono dividere questi? cosa? no no ok ok so dove sono le due squadre una è su oh dio oh dio oh dio sono caduto c'è una palla oh un cucciolo che andiamo? via dici? eh eh ma eh non so se ci conviene aspettare un attimo ecco tipo adesso si potrebbe andare ci buttiamo? ce la giochiamo? ce la rischiamo? bianco uno è bianco l'altra più bianca qua 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 sotto uno è down è down sto ho usato il redeploy ho usato il redeploy e sto arrivando sto arrivando sto arrivando è bassissimo dov'è? oh 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 gg gg a caso ah è morto avevo iniziato a sparargli ma è morto dalla tempesta capito ho sparato il primo colpo e due mi hai carriato di brutto ottimo ed eccoci arrivati alla fine ragazzi mi raccomando ricordatevi di farmi sapere cosa ne pensate dei video qua sotto nei commenti se vi è piaciuta questa idea di collaborazione se vi piace vedermi giocare con qualcun altro se preferite vedermi fare le challenge da solo se volete vederci fare delle mappe strane non lo so ditemi quello che vi potrebbe piacere qua sotto nei commenti nel frattempo ci vediamo al prossimo video da Pulsar è tutto ciao